Ben trovati a tempo d'estate. Tempio d'estate alle ore 10.45 di questo 4 agosto in cui troveremo il modo, ce lo dà il calendario liturgico in particolare, di avvicinare di nuovo la nostra Dus France, la Francia così amata da tanti in tutta Europa e in tutto il mondo. E lo faremo tra pochissimo anche, ma vi ricordo che la Francia di oggi è sempre ancora più simile alla nostra Italia perché comunque è una terra di santi, di santuari. E' una terra però anche dove c'è l'orgoglio repubblicano che la nostra Italia in qualche modo è replicato e oggi lo scopriremo nell'accadde oggi con un personaggio, Giovanni Spadolini, che certamente non è secondo ad alcuni grandi personaggi appunto francesi che in questo senso, cioè dell'orgoglio, del giusto orgoglio di patria che nasce anche dalla conoscenza della storia, hanno fatto appunto in qualche modo il tessuto di questa terra che ci è vicina, non solo perché confinante con la nostra Italia, ma i collegamenti in senso stretto, in senso diretto e la vicinanza fisica la ribadiamo subito con una delle colonne di questo nostro spazio che è appunto il collegarci con la Chiesa San Pio dove oggi c'è Leonardo Fania. A te Leonardo, ciao. Ciao Maria Pia, buongiorno, buongiorno a te, ai nostri colleghi che in questa mattinata, calda mattinata e umida soprattutto, sono in regia per portare avanti questo programma che ormai dall'inizio dell'estate sta facendo compagnie ai nostri telespettatori. A proposito di vicinanze, ecco permettimi anche di sottolineare la vicinanza enologica che c'è tra la Francia e l'Italia. Lo faccio per una passione che mi appartiene, però ovviamente è anche bello sottolineare questo aspetto. Dicevi del calendario liturgico che in questa giornata ci offre tanti spunti di riflessione, a partire anche dall'udienza generale appena conclusa di Papa Francesco, la prima del mese di agosto e la prima dopo l'importante intervento chirurgico che il Papa ha dovuto affrontare nel mese di luglio e che ce l'ha restituito stando a quanto abbiamo visto dalle immagini in tv abbastanza in forma. E a proposito di Papa Francesco, ecco io vorrei anche sottolineare che ieri è stato emanato l'intenzione di preghiera per il mese di agosto dal tema La Chiesa in cammino e Papa Francesco ha detto preghiamo per la Chiesa perché riceva dallo Spirito Santo la grazia e la forza di riformarsi alla luce del Vangelo. Voglio solamente citare le prime battute di questo video che Papa Francesco ha diffuso attraverso i media vaticani, la vocazione propria della Chiesa è di evangelizzare, l'identità della Chiesa è evangelizzare e a questo proposito il Santo che quest'oggi celebriamo ci è di grosso grosso aiuto, ma questo lo lascio dire a te Maria Pia. Grazie, abbiamo fatto un rimpallo e ancora non lo abbiamo citato, è San Giovanni Maria Vianney, il santo curato da, o d'Ars come magari qualcuno lo vuole pronunciare, ma sicuramente abbiamo un personaggio che ci rimanda anche a quando Papa Benedetto XVI è venuto qui a San Giovanni Rotondo e tu Leonardo poi lo potrai anche ricordare come fatto personale così come per noi del resto, magari nel secondo collegamento, adesso visto che non vedo intorno a te pellegrini, vogliamo noi aprire lo spazio a loro dedicato con una fotografia di un gruppo che è venuto in pellegrinaggio, un gruppo di preghiera, siamo sempre qualche tempo fa e arrivava però da vicino esattamente da Ruvo di Puglia e quindi eccoci, guardate quanti volti, guardate un sacerdote vestito in qualche modo anche all'antica se vogliamo, oggi che citeremo molto l'importanza di pregare per i sacerdoti e tra l'altro è uno degli inviti che ha fatto Papa Francesco proprio oggi nell'udienza, io invece vi faccio subito un altro invito, quello a scriverci, oggi mostriamo come di consueto la grafica, infochioccio, la teleradiopadrepio.it ma dovremmo avere in regia anche un divertissement che la collega Anna Maria aveva già preparato e che avete visto se frequentate i nostri social, ma al momento evidentemente non è disponibile, andiamo subito a parlare di San Giovanni Maria Viannè, Santo del Giorno. Vorrei conquistare molte anime, potremmo dire che la sua vita era chiusa in questo pensiero, celebre come curato da e come vedete patrono dei parroci. La sua vita terrena è iniziata nel 1786, periodo che era immediatamente precedente la grande rivoluzione che sarebbe iniziata tre anni dopo in Francia e quindi avrebbe cambiato completamente lo scenario anche della vita religiosa purtroppo. 1859 invece è la data di morte. Un personaggio, possiamo dirlo, veramente di quelli che sono indimenticabili per l'intera storia della Chiesa. Non a caso sono stati diversi papi che hanno valorizzato il suo esempio, un esempio che assomiglia tanto a quello di altri santi che conosciamo, cioè ore e ore in confessionale. Quotidianamente proprio la folla dei penitenti che arriva da lui è tale che stessa viene rinominata il grande ospedale delle anime. Ecco, cura, ospedale, la Chiesa addirittura ospedale da campo, dirà poi molto tempo dopo il nostro attuale pontefice. San Giovanni Viannè dice la mia ricetta è questa, do ai peccatori una penitenza piccola, il resto lo faccio io al loro posto. Muore il 4 agosto appunto di quell'anno che abbiamo già citato, 1859, ma vi ricordo che proprio nel centenario della sua morte Giovanni XXIII gli dedica un'enciclica Sacerdoti nostri primordia, additandolo a modello appunto di tutti i sacerdoti. 50 anni dopo siamo appunto al celebre 2009 che qui a San Giovanni Rotondo significa la visita di Papa Benedetto XVI ai luoghi di Padre Pio il 21 giugno ed era appunto da pochissimo iniziato l'anno dedicato proprio ai sacerdoti per contribuire a promuovere l'impegno di interiore rinnovamento in tutti i sacerdoti per una più forte e incisiva testimonianza evangelica nel mondo d'oggi. Alcune delle parole di Benedetto XVI, di quando appunto ha proclamato questo anno, le ascoltiamo adesso nel contributo. Poc'anzi ho potuto venerare nella cappella del coro la reliccia del santo corato d'Ars, il suo cuore, un cuore infiammato di amore divino che si commuoveva al pensiero della dignità del prete e parlava ai fideli con accenti toccanti sublimi affermando che dopo Dio il sacerdote è tutto, Lui stesso non si capirà bene che in cielo. Coltiviamo, cari fratelli, questa stessa commozione sia per adempere il nostro ministero con generosità e dedizione, sia per costruire nell'anima un vero timore di Dio, il timore di poter privare di tanto bene per nostra negligenza o colpa alle anime che ci sono affidate o di poterle Dio non voglia danneggiare. La Chiesa ha bisogno di sacerdoti santi, di ministri che aiutino i fideli a sperimentare l'amore misericordioso del Signore e ne siano convinti testimoni. E a proposito di testimonianza, di che cosa significa essere parroco, di che cosa significa vivificare la comunità con i sacramenti, ma anche essere vicino ai problemi quotidiani, sentiamo uno stralcio di un'intervista realizzata da Maria Antonia Di Maggio a Don Maurizio Patricello. Io sono parroco al Parco Verde in Caivano, il mio quartiere è uno di quei quartieri brutti nati dopo il terremoto dell'80, dove sono state raccolte tante famiglie di persone povere già disagiate con tanti problemi e logicamente la povertà ammassata si moltiplica, quindi alla povertà materiale, economica, fa riscontro poi la povertà anche culturale e spirituale. Fatto di fortuna, la bambina che è caduta, è stata scaraventata dall'ottavo piano, dopo essere stata ripetutamente violentata, veramente è stata una ferita che sanguina e sanguinerà per il resto della vita. Ma Caivano d'altronde è un paese in provincia di Napoli, ai confini con la provincia di Caserta. Io quando sono andato a fare il parroco in Caivano non potevo immaginare di andare a fare il parroco in quello che sarà poi il centro della terra dei fuochi. Proprio non lo sapevo, non potevo immaginarlo, anche perché io nei primi anni di sacerdozio ho fatto di tutto per tenermi lontano da ogni impegno che avesse il sapore di un impegno civile. Io dicevo no, io sono un prete e voglio fare il prete, il sindaco è il sindaco che fa il sindaco, l'altro ognuno facesse il suo lavoro. Quindi mi sono difeso, però quando poi il signore una cosa la vuole, nel giugno del 2012, stavo dormendo con le porte aperte, facevamo molto caldo, per l'ennesima volta le nostre case sono state invase da un fetore enorme, immenso, stomachevole, mi sono ritrovato in mezzo alla stanza in piedi, sentivo i miei vicini che chiudevano le porte, ho guardato il crocefisso che c'è in camera mia, ho detto ho capito voi qualcosa da me, ma che cosa, da dove devo cominciare? E ho avuto un'idea, mi sono alzato, ho acceso il computer, ho scritto così, sono padre Maurizio Patriciello, scrivo da fratta minore in provincia di Napoli, sono le 3.30 del mattino, a quest'ora da noi non si dorme, c'è un fetore che ha invaso le nostre case, i nostri cuori, i nostri animi, se anche voi siete svegli per lo stesso motivo, ditemi da dove scrivete e che cosa avvertite? E' stata proprio un'illuminazione, nel giro di 3 ore, dalle 3 del mattino fino alle 6, sono arrivate centinaia e centinaia di testimonianze, di persone che erano sveglie come me, i padri sono di Aversa, di Carinaro, di Cricignano, di Cesa, di Sant'Arpino, e ho visto che era tutta questa fascia, che va sotto il nome di Terra dei Fuochi, a portare un peso enorme, e là ho capito che dovevo essere io, che il Signore chiamava me. Sono tanti naturalmente i sacerdoti, parroci in prima linea tuttora, e sono tanti anche coloro che sono diventati sacerdoti nell'assegno dell'esempio di San Pio da Pietrelcina. Ora vediamo un altro stralcio del nostro archivio, questa volta è Anna Maria Salvemini, che ha intervistato due sacerdoti appartenenti agli apostoli di Gesù Crocifisso, Padre Massimo e Padre Michele. Ascoltiamo. Quanto è cambiato il prete? E se posso chiederlo, se avete una figura di riferimento. C'è stato qualche anno fa l'anno dedicato, l'anno sacerdotale, dedicato proprio a voi, non ancora sacerdoti, e da parte di Benedetto XVI, c'è qualche figura che prendete come esempio, a parte il Signore, a parte Gesù? Nell'immaginetta che ho preparato per l'ordinazione, ho messo una serie di santi che sono stati fondamentali nel mio cammino di fede, e tra i tanti posso ricordare San Giovanni Bosco. Mi ricordo che già da piccolo, quando andavo in vacanza, mi era capitato di leggere la storia a fumetti di questo santo, e non mi potrò mai scordare. Poi ho letto anche la sua autobiografia. Il modello di sacerdote, è un sacerdote che è docile allo spirito santo, perché nessun santo è mai uguale all'altro. Io, come tutti i sacerdoti, siamo chiamati alla santità, e io sono consapevole che devo aprire il mio cuore, perché il Signore mi renda come Lui mi vuole. Prendendo anche a modello questi santi, però io so che non potrò mai essere uguale a Padre Pio, a San Giovanni Bosco, a San Filippo Neri, a Santo Maso d'Aquino, io sono consapevole che non devo essere come io voglio, ma come il Signore mi vuole. E questa ci vuole un'apertura del cuore all'azione dello Spirito Santo. E un grande ruolo nella formazione di un sacerdote santo lo ha la Madonna. Come la Madonna ha formato Gesù nel suo grembo quando era piccolino, la stessa cosa voglio fare anch'io, mettermi nelle mani di Maria perché lei mi plasmi a modello del figlio. Quindi io veramente sono disponibile, vorrò essere disponibile all'azione dello Spirito in me. Diceva un santo, San Luigi Maria Grigno da Muffort, nella misura in cui Maria è presente in un'anima, tanto più lo Spirito avrà la possibilità di trasformare quest'anima in Gesù Cristo. Penso che uno dei modelli che ci appartiene come anche istituto è proprio Padre Pio. Lui ci insegna che il sacerdozio vissuto bene è quando si celebra bene, quando si confessa bene. Padre Pio ha vissuto una vita nel confessionale all'altare. Questo non vuol dire non andare fuori, rinchiudersi nella sacrestia. Era la sua missione particolare, ma comunque penso sia un segno forte per i nostri tempi, dove purtroppo tante volte il sacerdote, preso da tante attività, si dimentica l'essenziale, che è la celebrazione della Santa Messa, come si deve, e essere nel confessionale. Lì avviene la trasformazione del cuore delle persone. E lì veramente possiamo collaborare ad una nuova evangelizzazione, toccare nel profondo il cuore delle persone, tramite l'eucaristia e la confessione. Adesso dove andrete ad operare? Nell'immediato, a Dio piacendo, saremo impiegati nella parrocchia di San Rocco a Valenzano, provincia di Bari, come viceparroci. Poi siamo un istituto missionario, per cui una delle nostre caratteristiche è quella di essere disposti alla missione. Abbiamo missioni in Africa, nelle Filippine, siamo in Polonia. per cui dicendosi al Signore diciamo sì al suo progetto e quindi siamo disposti anche ad andare dove Lui ci chiama. E certamente vi starete chiedendo come mai non stiamo anche citando proprio Padre Pio come sacerdote. Ma tutti ricordano, sono convinta, che tra pochi giorni è proprio l'anniversario, il giorno 10, dell'ordinazione sacerdotale di Padre Pio da Pietrelcina. Era il 1910. E naturalmente sarà quella la giornata in cui l'occasione ritornerà proprio di parlare di Padre Pio come sacerdote esemplare. Adesso la linea va alla regia. Alle 11 e 5 minuti voglio ribadire, magari qualcuno ha cominciato a seguire il nostro programma solo ora, che il nostro invito vale anche per voi, vale per le vostre immagini. Tra poco vedremo delle fotografie molto diverse. Ma qui invece c'è la modalità appunto, soprattutto attraverso l'email infochioccio a teleradiopadrepio.it di inviarci le vostre foto dei pellegrinaggi nei luoghi di San Pio. E andiamo dunque a vedere nel calendario quali sono i personaggi più importanti legati a questa data del 4 agosto. Innanzitutto andiamo al 1994 perché muore a Roma un grande personaggio dell'Italia repubblicana, Giovanni Spadolini. è stato storico, professore universitario, ma anche giornalista, direttore addirittura ad un quotidiano. Ma è celeberrimo soprattutto come politico, ultima fase della sua vita. Magari tanti di voi ricordano anche come lo ritraeva Forattini, era veramente un caricaturista geniale e in quel caso non era stato dolce. Però, come tutte le grandi intelligenze, certamente anche lui, come altri politici della sua generazione, andava proprio orgoglioso di quelle caricature. Più volte ministro. Dal 28 giugno del 1981, quindi esattamente 40 anni fa, per un anno e mezzo fu il primo presidente del Consiglio dei Ministri non democristiano. Fino a quel momento i premi erano tutti appartenenti alla democrazia cristiana. Nel maggio del 1972 venne eletto per la prima volta deputato e aveva scelto il partito repubblicano. Ricopre la carica di presidente del Senato dal 1987 a quando morì. Nel frattempo era anche stato nominato senatore a vita nel 1991. E noi abbiamo scelto anche di mostrarvi alcune copertine che, se vogliamo, in questo caso ecco, appunto, è proprio una pubblicazione da lui firmata che aveva pubblicato il Senato sulla riforma nell'Italia Unita. E infatti lui, come storico, era tra l'altro un esperto straordinario dell'Ottocento italiano del post-unità. E invece l'altra copertina è diversa perché ci parla proprio del Senato nelle tre capitali. quindi andiamo ancora un pochino più indietro rispetto alla pubblicazione precedente e sentiamo un po' profumo appunto di qualcosa che sembra ormai lontanissimo ma invece non è così anzi la lezione di certi personaggi che sono stati capaci di essere servitori dello Stato quando a loro non conveniva viste le professioni d'altissimo livello è soprattutto il caso di Spadolini ma non solo potrebbe essere appunto una lezione valida anche oggi ma voglio correre perché dobbiamo andare molto più indietro esattamente all'inizio proprio del ventesimo secolo 1901 nasce un grande musicista un grande personaggio Louis Armstrong certo celeberrimo soprattutto inizialmente nei suoi States e pensate la sua vita che praticamente è stata quasi tutta sviluppata in decenni in cui ancora c'era l'Apartheid questo è un francobollo celebrativo comunque Louis Armstrong è stato il più famoso musicista jazz del ventesimo secolo un grande personaggio carismatico innovativo che ha trasformato un genere da prima chiuso proprio nei ghetti neri in quello che è invece ormai un classico cioè anche colonne sonore di generazioni intere e che fosse un classico anche per l'Italia lo avevamo visto quando Armstrong venne invitato a Sanremo ed era cereberrimo appunto l'episodio raccontato da Pippo Baudo anche di recente per cui lui nella sua semplicità era convinto di dover fare un'esibizione molto lunga visto che era stato invitato dagli States e Pippo Baudo non riusciva appunto a interrompere questa splendida performance ma adesso sono già le 11.10 quindi cambiamo un pochino per ora la scaletta visto che Leonardo è già pronto nuovamente per il secondo collegamento eccoci Maria Pia allora dicevamo all'inizio di questa giornata particolare dedicata a questo santo che è stato dichiarato patrono dei parroci all'inizio di questa trasmissione abbiamo fatto ascoltare i nostri amici lo avranno sentito nel passaggio dell'omelia che apriva l'anno sacerdotale Benedetto XVI ha voluto instaurare e inaugurare questo anno pochi giorni prima della visita qui a San Giovanni Rotondo con la venerazione del cuore della reliquia del cuore del santo curato d'Ars una venerazione che poi pochi giorni dopo era l'11 giugno del 2009 il 21 giugno Papa Benedetto ha compiuto anche qui a San Giovanni Rotondo lo ricorderete il Papa che dopo aver venerato il corpo di San Pio da Pietrelcina che all'epoca si trovava permanentemente esposto nella cripta di Santa Maria delle Grazie ha potuto venerare il reliquiaro contenente il cuore di Padre Pio in tanti commentatori hanno detto che è scritto che la visita di Papa Benedetto XVI a pochi giorni dall'inizio dell'anno sacerdotale era un ulteriore attestato di stima per la figura di San Pio da Pietrelcina che come il curato d'Arsa cui l'anno sacerdotale era dedicato è stato davvero un grande sacerdote sia dispensatore dei misteri dell'altare che poi come tutti ben sappiamo dal confessionale lo stiamo facendo vedere in questi giorni attraverso anche le testimonianze di alcuni confessati da Padre Pio stesso un ponte potremmo dire così che poi è stato anche idealmente prolungato nell'anno santo straordinario dedicato alla misericordia siamo ovviamente nel 2015 siamo con Papa Francesco questa volta Padre Pio e San Leopoldo Mandic ne abbiamo parlato in maniera diffusa per tornare invece all'attualità dunque dicevamo all'inizio che Papa Francesco quest'oggi questa mattina ha tenuto nell'Aula Paolo VI l'udienza generale dopo la pausa estiva la numero 365 pensate del pontificato siamo andati a spulciare negli archivi che il portale vatican.va ci mette a disposizione e quest'oggi pensate siamo arrivati a ben 365 udienze leggo per non riportare dati sbagliati che riporta un dato che riporta anche quelle giubilari ovviamente dell'anno santo straordinario della misericordia voglio dare qualche dato legato ai temi dunque 25 catechesi dedicate al credo nell'anno della fede riprendendo le catechesi di Papa Benedetto XVI 7 catechesi dedicate ai doni dello spirito santo 9 ai sacramenti 15 alla chiesa 36 alla famiglia 49 dedicate alla misericordia in occasione dell'anno santo straordinario come dicevamo 38 dedicate alla speranza cristiana 15 alla santa messa 6 al battesimo 3 alla confermazione 17 ai comandamenti 16 alla preghiera del padre nostro 20 agli atti degli apostoli 9 alle beatitudini 38 alla preghiera e poi ancora per concludere 9 dedicate alla pandemia questo ciclo bellissimo dal titolo intitolato appunto guarire il mondo e poi l'ultimo ciclo iniziato lo scorso mese di giugno con la lettera ai galati 3 incontri dunque 365 un anno completo potremmo dire in cui Papa Francesco ha messo al centro come dice l'Evangelii Gaudium il mistero di Cristo crocifisso morto e risorto e che attraverso questi temi che ho voluto elencare si è reso ancora più evidente ed anche attuale riferendoci in maniera particolare al penultimo ciclo dedicato appunto alla pandemia se ho ancora qualche secondo di tempo voglio ricordare anche ai nostri amici telespettatori che Papa Francesco a dispetto dell'importante intervento chirurgico che ha affrontato nello scorso mese di luglio a settembre quindi fra poche settimane dal 12 al 15 in maniera specifica si recherà in Ungheria e in Slovacchia in Ungheria per concludere il congresso eucaristico internazionale e sarà un viaggio importantissimo anche alla luce degli sviluppi politici che stanno interessando l'Ungheria e l'Unione Europea con le notizie che riusciamo ad apprendere ogni giorno sia dei telegiornali che dei siti internet Maria Pia non so se hai qualche domanda altrimenti ti lascio la linea No, resta in ascolto perché ti do io adesso una notizia perché ovviamente sei anche tu un appassionato di sport anzi molto più di me vista la tua giovane età abbiamo vinto un altro oro mi hanno appena comunicato dalla regia che questa volta è il ciclismo su pista ieri la vela noi avevamo aperto la settimana solo 48 ore fa gioendo per quello che è accaduto domenica data storica ovviamente non solo per il salto in alto di Tamberi ma anche per il fatto che un italiano che abbia appunto battuto tutti gli altri nell'ultima batteria e nella finale appunto dei 100 metri è qualcosa che ci sembra tuttora incredibile ma il nostro medagliere continua ad arricchirsi quindi mi faceva piacere comunicartelo perché magari ancora non lo sapevi a me lo hanno detto grazie a proposito a Luigi e Anna Maria e intanto proprio dal loro reggiglia insieme con Roberto Coccomazzi ritorniamo al lavoro dei nostri colleghi proprio quello di Leonardo peraltro in questo caso con uno dei luoghi più splendidi da visitare se venite in Puglia la cattedrale di Troia c'è un'altra perla di cui il nostro collega va a raccontarvi ovviamente con l'aiuto di un esperto alcuni dettagli tra le opere d'arte più significativi all'interno della cattedrale c'è sicuramente questo pulpito un pulpito che in realtà è stato per lunghi secoli in un'altra chiesa nella chiesa di San Basilio ma senza dubbio non era stato realizzato per San Basilio è troppo grande per la piccola chiesa di San Basilio fu riportato qui nel 1800 all'epoca di grandi lavori di restauro che diciamo fecero demolire gli altari gentilizzi gran parte dei 21 altari gentilizzi che decoravano la cattedrale poi ce ne saranno altri lavori di restauro negli anni 50 e 60 che cambieranno completamente l'aspetto della cattedrale al suo interno perderemo i marmi gli stucchi in gran parte degli intonaci barocchi e avremo la pietra nuda all'epoca l'idea era quella di restituire alla cattedrale il suo primitivo splendore il suo aspetto originario ma in realtà la cattedrale non ha mai avuto l'aspetto che ha oggi perché senza dubbio le pareti erano almeno intonacate e imbiancate ma molto probabilmente essendo questa una chiesa molto ricca erano anche affrescate e oggi abbiamo solo tracce di affreschi ecco negli anni nel 1800 nel corso dei primi grandi restauri dell'epoca contemporanea fu riportato in cattedrale il pulpito il suo pulpito il pulpito della cattedrale è rimasto per lunghi secoli altrove è un pulpito realizzato nell'anno 1169 ed è molto significativo non solo per l'aquila reggileggio che si trova diciamo nella parte frontale del pulpito ma soprattutto per via di un basso rilievo laterale un basso rilievo che è diventato celebre oserei dire nel mondo grazie all'attuale ex papa Benedetto XVI Benedetto XVI venne qui a Troia negli anni 80 e tra le altre cose si soffermò a studiare questo basso rilievo diede una sua interpretazione della scena che troviamo rappresentata sul basso rilievo e poi nel 1991 scresse un libro il libro si intitola Natura e compiti della teologia in cui dedica un capitolo a questo basso rilievo ne spiega le ragioni simboliche ma soprattutto scelse l'immagine di questo basso rilievo la foto di questo basso rilievo come copertina del suo libro quindi ancora oggi se compriamo questo libro dell'allora cardinal Ratzinger in lingua originale in tedesco lo troviamo con la copertina raffigurante il basso rilievo del pulpito di Troia se lo compriamo in italiano hanno cambiato la copertina quindi non c'è più che cosa troviamo raffigurata in questo basso rilievo troviamo un leone e i leoni sono ogni presenti nella simbologia nei bestiari medievani un leone che è nell'atto di azzannare un agnello e che a sua volta è attaccato da un cane ci sono molte interpretazioni di questa scena ma quella più semplice cioè quella più comune è che si tratti del demonio che è nell'atto di azzannare l'uomo l'umanità però è attaccato da un cane che rappresenterebbe la chiesa la chiesa nonostante l'apparente sproporzione di forze con il demonio non ha paura di attaccare il demonio il demonio dovrà voltarsi per rispondere all'attacco della chiesa e il fedele l'uomo l'umanità sarà salvata molto belle quelle immagini le pietre parlano continuano a parlare e noi però dobbiamo anche tornare sulla notizia del momento perché siamo al nono posto nel medagliere generale quindi veramente egregie le arti sportive di tutti coloro che si trovano a Tokyo e soprattutto vi ricordo che questo della squadra del ciclismo su pista è il sesto oro ma da non sottovalutare anche le nove medaglie d'argento e le quindici di bronzo quindi proprio con il sorriso sulle labbra anche per questi traguardi diamo ora la linea alla regia a lo a a a a a a Grazie a tutti.